In questi giorni presentiamo l'ampliamento della gamma Germinal Biosintermutine. Abbiamo introdotto delle nuove referenze con dei cereali nuovi, un B-TEF, proponiamo il biscotto al TEF e anche un cake nuovo ad Amarano. I nuovi prodotti che consentiamo vanno a integrare una gamma che abbiamo lanciato l'anno scorso, la gamma Germinal Biosintermutina e Biologica, che conta ormai una trentina di referenze che ha riscontrato un ottimo apprezzamento da parte del pubblico. Abbiamo introdotto a fine anno 2014 i prodotti vegan, Amarco Germinal Bios vegan e Amarco Germinal Bios senza lievito. Sono dei prodotti dedicati per chi ha incolleranze alimentari particolari o chi sceglie una dieta con determinate caratteristiche, tipo l'assenza di proteine animali o l'assenza di determinati biogeni o altro. Allora, il Marco Germinal Bios si trova principalmente distribuito in Italia, però sta vendendo anche all'estero, in Cina, in Mirati e anche in America e in Russia. Sì, siamo aumentando i nostri prodotti. Essendo il Pancersano, un'azienda che produce anche a Marche Terzi, stiamo avendo una buona richiesta da importanti insegni straniere, ad esempio in Inilterra con il marchio Asta, che fa parte del gruppo Walmart, stiamo producendo dei prodotti dedicati per il baby food.